Oh, aiuto, cantestite, mi hanno derubata tutta, mi hanno rimasto solo due vestiti, si hanno preso i cavalli, si hanno preso tutto di me, mi hanno proprio derubato, io stavo dormendo, mi sono svegliato e mi sono ritrovato così. Come? Certo, mi hanno rubato tutto, mi hanno rubato, ora sono rimasto senza niente. Non vedi, mi rimangono solo gli abiti che tengo addosso, poi non mi è rimasto più niente. Ma pure i soldi ti hanno derubato, scusa. Tutto, 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 tutto. Oddio, vabbè almeno... Dai, vieni a fare una vacanza bella con me. Sì. Forse ti troveremo un cavallo. Dai. Magari. Qua non posso prendere la carrozza, che faccio? Sì. Vabbè, dai, sai che faccio? Vado a mettere il cavallo nella stalla, tu accompagnami. Perché così ci facciamo le stanze. Posso il cavallo e ti troviamo pure un cavallo. Io lo metto in questa stalla, un attimo, lo metto a mangiare. Voglio smontare. Oddio, che tragedia, che tragedia. Seguimi, seguimi. Dobbiamo andare dietro le scale. Per educazione si chiude. Allora, vediamo questa. Ah, metto in confusione. Allora, questa qui è la tua stanza. Ok? Ok? Poi vediamo questa. Questa qui è la mia. Ma dove stai? Poi, questo qua. è il salotto dove vediamo i film e quando io sto meditando, tu non mi devi proprio disturbare. Ah, ok. E poi... Questa va... E la sala giochi. Grazie. Piace la sala giochi. Bellissimo. Ma più... Un ubbicù. Certo. Ora, dobbiamo andare a vedere se troviamo un cavallo perfetto. Ah! Chiudi tu. Ok. Non do... Dobbiamo salire qua. Saliamo. Ma è un balcone! Aspetta. Questi sto provando a salire. Ma tu che... Che ci fai qua? Oh! Guarda che ho trovato! Lo stai trovando. Qui. Allora. Questa qui... Aspetta, fammi vedere. Queste qui sono le stanze... Allora, questa qua è la mia stanza. Poi questa qua, ma è brutta. Questa stanza non ce la prende nessuno! Questa stanza è lo scandino! Ok? Che brutta questa stanza! Non c'entra nemmeno tu che fa schifo! Non mi piace quella stanza. A te ti piace? Mi sembra che ti avessi visto un cavallo tra quelle montagne. Allora, perché non scendiamo giù? Muoviti! Me lo dovevi dire prima! Ma come scendiamo giù? Dalle scale! Ma no, questo è proprio deficiente! Ma qua le scale, io non le vedo. Seguimi! Allora... Ma quando ti è rubata? Mi sa che ti hanno rubata pure il cervello! Ma però è un casino! Io poi come faccio? Aspettami un attimo, è un casino così veloce! Chissà in che guaio ci siamo combinati! Vedi? Guarda, in chi è quel cavallo? Boh, forse sarà selvaggio! Prenditelo! Spero a cavalcare da meno! Aspetta! Portalo! Ho visto che c'è il guinzaglio! Proviamo a prendere quel guinzaglio! Vabbè, io ti aspetto dentro! Che emozione! Ma da quanto tempo che non andiamo sui cavalli? Scusa! Da qualche mese! E' trovata! Aspetta! Andiamo piano per questa volta! Camminiamo, dai! Andiamo! Andiamo! Allora, ma tu ti ricordi come si monta un cavallo? No, no! Infatti... Tira tutti e due per fermarlo! Ecco! Ora, per farlo partire, dai! Aspetta! Fammi smontare che ti rimbano! Allora, fai un colpo di scampo di scampo di scampo di scampo di scampo! Partire! Vai! Vai! Ecco! Ora! tira, aspetta, aspetta, fallo per il mare, tirate due, allora, metti tu, quando si sta sul cavallo, tu non ti distrai mai dal cavallo, allora, tu le mani non le devi mettere qui, le devi mettere, ecco, leggermente più avanti, pronta, allora, poi, per andare verso questo lato, tu dovresti tirare questa corda, la vedi questa, questa corda, la devi tirare da quest'altro lato, invece, poi, se devi andare da questo lato, devi fare il contrario, che quella la devi tirare qua, ok? Poi, per andare più bello, devi sempre dare un colpo di zampe, dai un colpo le zampe, e andiamo! Guarda qui, ora è pulita, l'ha già buttata, per farla affeggiare, l'ha già buttata così, per farla, attento! Attento! Grifo è la passeggiata, lei non si ricorda come è il timone del cavallo, se lo devo portare io! Comunque! Ok, forse ho capito tutto, dai! dai, allora, aspetta, me lo chiamo! vai avanti tu, così ti senti! ho trovato una casa! sai come io vado tutti i giorni al cavallo, quindi non me lo posso mai dimenticare! c'è il fuoco! stavo dicendo che non me lo posso mai dimenticare, se vado tutti i giorni al cavallo come si monta un cavallo! c'è il fuoco! ferma! e ora che facciamo? torniamo indietro! non ci credo, perché è una giornata perfetta! ci deve essere il fuoco per strada! ci deve essere il fuoco per strada! sentirete com'è pulita? è fresca, fresca! sono andando a sbattere! sono caduta! tu gli hai tozzato l'ala! e non fa niente, scusami! e non sai che le ali sono fragili! aspettami che... scusami! non fa niente! aspettami che monto! vai! dove sta andando? ti raggiunghi l'ombardo e dopo! puoi andare più veloce! più veloce? no, no! il mio cavallo! quando vola! rotto? rotto? guarda qui come va il mio cavallo! dai vieni! guarda cosa c'è! ma dove sta andando? non ti vedo più! noi dovevamo tornare in stalla! cavallo! corri gliela andiamo a cercare! papà quando devi farlo correre! non deve correre! se che devi fare? devi andare a piccolo galotto! è un galotto! è un galotto! sto sopra una specie di uscina! allora aspettami! andiamo a posare il cavallo almeno! guarda qui il mio cavallo che fa! c'è fuoco! non lo mangi più cavallo più volare! non lo mangi più cavallo più volare! non lo mangi più cavallo! come sono carini! andiamo a mangiarci! buone! senti io c'ho un po' di fame! andiamo a mangiarci qualcosa! si! a noi questi piccioncini ci sono! si si! ciao! io vado in camera! ma che ci fa la mia volpe qua? ok! ci vediamo un altro giorno! ciao! io mi chiedo che ci fa la mia volpe?